Non ripetere gli errori di Fukushima. Con questo obiettivo le autorità giapponesi hanno testato una complessa operazione con cui si è simulato un violento terremoto. Si tratta della prima iniziativa del genere su larga scala dopo l'incidente alla centrale nucleare avvenuto nel 2011, incidente le cui conseguenze non sono ancora del tutto riportate sotto controllo. Alla simulazione ha preso parte anche il primo ministro Shinzo Abe, tornato al potere proprio lanciando la sfida di una migliore gestione del nucleare. Per le autorità di Tokyo, tuttavia, l'esperienza ha costituito l'occasione per rilanciare e mettere a punto le proprie competenze in materia di gestione delle emergenze atomiche.